Attenzione, palla recuperata dalla Pescara, da Gessa Dememusciai, poi Sanzovini, elude l'intervento di Rinaudo, prende la mina, il sinistro, incredibile gol, Marco Sanzovini, il Pescara si porta in avvantaggio, sblocca la situazione, al terzo minuto di recupero, un missile, terra-aria e sono 48 le reti realizzate in maglia biancazzurra da Marco Sanzovini, euro-goal, strepitoso, il pallone si è infilato all'incrocio dei pali, alla sinistra dell'incolpevole Jean-François Gillet, una bomba, un grandissimo gol, una meraviglia, ancora Caprari, vediamo lo scambio con Dememusciai, Caprari, 16 metri, attenzione, libero Sanzovini, il controllo sinistro, rete, 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 Sanzovini, un gol fantastico, davvero straordinaria la prudezza di questo giocatore, in marcia scivile, il Pescara è di nuovo in vantaggio, questo è un super gol, prudezza, davvero una magia, ancora lui, Marco Sanzovini. Intanto seguiamo gli sviluppi di questa azione Pescara con Sanzovini, lato corto dell'area di rigore, entra in area il suo sinistro, grandissimo gol, il gioiello di Marco Sanzovini, che prudezza, Marco Sanzovini, solo i suoi gol, ma questo era davvero una posizione impossibile.